Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi di questo mouse da gaming per mancini di Razer. Un mouse rivolto principalmente a coloro che giocano con MMORPG, MOBA o RPG, insomma, che necessitano di molteplici tasti. Prima di aprire la confezione, vediamo insieme le caratteristiche del mouse. Come potete vedere è progettato per la mano sinistra, quindi per i mancini, e ha un design ergonomico. Tasti meccanici, ovviamente programmabili e personalizzabili tramite l'apposito software. Un sensore ottico da 20.000, con la possibilità di passare poi da una configurazione e l'altra. È USB, quindi non è wireless. Va collegato via USB e tra poco vedremo anche il cavo che è realizzato con materiali di altissima qualità. Dopotutto è un mouse, Razer, anche abbastanza dispendioso. E ha ovviamente i LED, quelli non mancano mai. 20 tasti programmabili, come vi ho anticipato. Detto questo, apriamo la confezione e vediamo insieme questo mouse. La confezione si presenta anche molto interessante, è molto particolare come apertura. Ed è, diciamo, racchiuso il mouse in una scatola secondaria. Quindi, diciamo, questo è solo un involucro molto originale, ma il mouse è presente in questa scatola. Infatti c'è il logo Razer e nessun'altra informazione. Apriamo la scatola e al suo interno, sembra una matrioska, trovate un'altra confezione, ma questa volta è un sacchetto. Con dentro il mouse e poi ci sono, tipo, i manuali di garanzia e istruzione. Questo è il mouse, adesso lo apriamo, spero di non trovare un'altra confezione al suo interno. Eccolo qua, il mouse, come vedete, è una bella bestia. È molto leggero, vi assicuro che è molto leggero, anche se, diciamo, l'aspetto, il design, sembra, come posso dire, sembra grosso. Cioè, sembra un mattone, ma in realtà il mouse è davvero molto leggero. Ovviamente è progettato per mancini, come vi ho detto prima. Infatti, i tasti, che solitamente sono presenti su questo lato, perché vanno premuti con il pollice, questa volta si trovano dal lato opposto. Questo perché il mouse è per mancini. Come vedete, praticamente tramite il pollice potete premere tutti i tasti che sono numerati. Non so se vedete, vanno da 1 a 12 e possono essere programmati. Il mouse presenta, ovviamente, i tastini per cambiare configurazione da un DPI all'altro, oltre lo scroller che, ovviamente, può essere premuto, come vedete. Adesso lo colleghiamo, così vediamo insieme anche i LED. Prendo una prolunga USB, che ho qui. Vediamo un po' insieme. Come vedete, si accende come un albero di Natale. Con una colorazione rosa, viola, arancio, ok, è mutevole. Quindi cambia colore. Ovviamente con il software Razer poi potete personalizzare la colorazione e decidere l'effetto della stessa, o se avere, ad esempio, questo bel verde acceso fisso per tutta la durata dell'utilizzo. Giù qui, invece, potete passare da una configurazione del profilo all'altra. Infatti c'è questo tastino. Una volta che collegate il mouse al computer, parte direttamente il software Razer che vi dice come va configurato. Quindi potete poi seguire la procedura guidata in lingua inglese e vi configurate il mouse. Se siete mancini, personalmente, ve lo consiglio perché è davvero molto, molto comodo. Premendo questo pulsante, praticamente passerete a configurazioni dpi elevate, premendo quest'altro scenderete. Quindi è anche molto preciso nei giochi sparatutto. Anche se è principalmente concepito per i MOBA, gli MMORPG infatti presenta 12 tasti che possono essere programmati. Potete assegnare ad ogni tasto una funzione differente e quindi mapparli, ad esempio, di gioco in gioco. Se giocate, non lo so, a Black Desert Online potete avere tutto a portata di mouse invece che magari utilizzare tutti i tasti della tastiera. Quindi magari, mentre impugnate il mouse, qui potete, che ne so, cambiare arma, cambiare magia, cambiare oggetto nell'inventario e richiamare altre funzionalità. Mentre, diciamo, utilizzate anche la tastiera, però avrete tutto a portata di click. Il mouse è davvero ottimo. Come vi ho detto, è leggero, nonostante vanta un'impugnatura molto grossa, come potete vedere. E ci va a nozze con la mia mano. È estremamente comodo. È realizzato di un materiale che al tatto è, diciamo, ruvido, ma non in maniera esagerata. Diciamo, se lo paragono a quello Logitech, il Logitech è liscio, mentre questo è ruvido. Io adesso a Logitech ho applicato, diciamo, questi adesivi che permettono di avere un mouse un po' più ruvido. Però, anche paragonando gli adesivi a questo mouse, questo mouse presenta una superficie, diciamo, semiliscia, perché è leggermente liscia, ma è allo stesso tempo anche ruvida. Credo che sia realizzato di un materiale, a parte antiscivolo, ma anche che non tende a consumarsi nel tempo rapidamente come il Logitech. Vedete, il Logitech praticamente mostra questo alone dovuto proprio all'eccessivo utilizzo. Mentre questo tipo di mouse praticamente presenta una superficie che, anche se sudate, anche se lo utilizzate per tanto tempo, non si crea appunto quell'alone fastidioso, che poi rende il mouse ancora più liscio. Come potete vedere, si muove che è una bellezza sopra questo tappetino, quindi se volete acquistarlo, lo trovate su Amazon. Grazie. Grazie. Grazie.